Continuano i tour internazionali dello chef aquilano William Zonfa che questa volta cucinerà in Canada. È partita oggi infatti la prima delle tre masterclass che impegneranno lo chef aquilano William Zonfa in Canada nelle città di Toronto e Alberta. Degustazioni e show cooking porteranno all'attenzione del mercato americano la tradizione del pastificio abruzzese Rustichella d'Abruzzo. Testimonial scelto è l'aquilano Zonfa, appunto una stella Michelin, chef del Magione Papale, che preparerà per l'occasione ricette esclusive con l'utilizzo della pasta d'Abruzzo, lo zafferano dell'Aquila, dopo e la linea gluten free. Con la tappa a Toronto d'Alberta lo chef Zonfa porterà nelle due scuole di cucina più prestigiose del Canada, la George Brown College e la Worldwide Speciality Food, la raffinata tecnica italiana, per realizzare piatti a base di pasta in chiave internazionale.